A volte sembra che non ce ne siamo mai andati. Ecco cosa accade con alcune persone, le incontri ed è come averle ritrovate, pensavo di non conoscermi. Ed invece, ed invece, ed invece, ogni pezzo di te, ogni parte di pelle, ed entra i miei occhi, ed entra i miei occhi, e i tuoi occhi non si tolgono più via, non si tolgono più via, non si tolgono più via. Chissà dove sarai, finalmente risolta, forse già innamorata, forse ancora una volta, chissà dove sarai, e se ti basta così. A volte, sembra che non ce ne siamo mai andati.